Ho scelto per la rubrica le parole urticanti di questa settimana la parola illuminismo. Perché illuminismo? L'illuminismo nasce in un secolo particolarmente devastato dal punto di vista della povertà, delle epidemie, della miseria, della fame. Il Settecento è stato un'epoca, un secolo particolarmente travagliato da questo punto di vista e mentre i poveri morivano i ricchi ovviamente godevano di tanti privilegi oppure facevano la guerra. In quel periodo che cosa era accaduto? Era accaduto che mentre appunto la povertà, la miseria seminava morte, distruzione, fame e dall'altra parte il privilegio dava la possibilità a pochi ricchi di godersi la vita, Bene, in questa situazione gli intellettuali, i filosofi di allora, soprattutto in Francia, decidono di intervenire nella società, di darsi da fare, di rimboccarsi le maniche e di capire che cosa poteva funzionare per cambiare lo stato delle cose. Bene, gli illuministi per alcuni decenni furono esattamente questo, furono esattamente coloro che riportarono, in particolare nella società francese, un'idea forte di uguaglianza non perché Dio ci ha creato uguali, ma perché la natura ci ha voluti uguali, perché siamo uguali in forza di natura. E non solo siamo uguali, siamo liberi, e per questo, poiché la natura ci dà la possibilità di superare gli scogli, per questo bisogna riconoscersi come fratelli. Ma soprattutto, che cosa unisce l'umanità, secondo i primi grandi illuministi del XVIII secolo? Unisce una straordinaria facoltà che ha l'essere umano e probabilmente non hanno gli altri esseri animati, e cioè la ragione, e cioè la possibilità di pensare, e cioè la possibilità di parlare, e cioè la possibilità di usare questa facoltà, la razionalità, per risolvere tutte le grandi questioni che assillano l'umanità. Il compito del filosofo era dunque quello di assicurare all'intera popolazione umana le conoscenze, i saperi adeguati per affrontare una vitagrama difficile, pericolosa, e per superare gli ostacoli intanto che la natura poneva, ma anche che la società poneva, per effetto appunto della schiavitù, della ricchezza, dei privilegi. Gli illuministi furono questo. Lo dico in sintesi, ma dico soprattutto quale fu l'effetto straordinario e dirompente, che poi dopo decenni di fatica, di costruzione di una razionalità del sapere attraverso, per esempio, l'enciclopedismo, la possibilità che tutti potessero abbevenarsi a ciò che pochi sapevano e conoscevano, l'alfabetizzazione, le scuole e poi le università. A che cosa portò tutto questo? Portò intanto a due fatti verso la fine del Settecento. La prima, nel 1774, la dichiarazione di indipendenza americana, ma soprattutto, per effetto della rivoluzione francese del 1789, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Universale dei diritti dell'uomo. Siamo alla fine del Settecento. Era impensabile che si potesse costruire addirittura una dichiarazione dei diritti. dell'uomo che fosse universale, cioè che appartenesse a ciascun individuo. Tutto ciò dava la possibilità di utilizzare la ragione per intervenire nella società modificandone le strutture. In sostanza, gli illuministi predicavano la partecipazione. Se vuoi risolvere il tuo problema, devi metterti insieme con gli altri, essere fratelli con gli altri e cambiare le cose. Questa è la grande lezione che l'illuminismo ci consegna. Una lezione che, per esempio, Bruno Trentini, in un articolo famosissimo, notissimo, del 2005, trasse dalla lezione, per esempio, di Condorcet, quando utilizzò Condorcet, in un famoso articolo contro la meritocrazia, per dire che l'umanità ha bisogno non solo di uguaglianza, non solo di libertà, non solo di fraternità, ma anche di scolarità, ma anche di scuola, di accesso al sapere, perché il sapere libera. Il sapere nelle fabbriche libera, il sapere nel lavoro libera, ma come libera? Libera ripensando le forme della democrazia, ripensando la partecipazione. Quando la partecipazione fallisce, questa missione illuministica viene meno. Allora, io penso che nel nostro paese, domenica scorsa, sia accaduto qualcosa di degno di riflessione. Intanto, perché l'affluenza è stata la più bassa nella storia della Repubblica, meno del 64%, e questo è un dato di fatto. Non è un giudizio di valore, è un dato di fatto. Il giudizio di valore viene dopo. Viene dal fatto che, probabilmente, quel 30%, o dentro parte di quel 30%, ci sono persone che forse pensano, e sono certe, che non si possono cambiare le cose. Bene, apprendiamo dalla lezione degli illuministi, ridiventiamo fratelli, ridiventiamo uguali, ridiventiamo liberi per cambiare le cose attraverso la partecipazione razionale. Questa è la grande scommessa che ci attende per i prossimi anni. Questa è la grande missione che attende gli intellettuali di questo paese per i prossimi anni. Uscire dalle università, uscire dalle scuole, uscire dai ghetti per ritrovarsi nella società e per riproporre l'ideale illuministico del sapere che trasforma la vita e la società. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.